ciao a tutti in questo video tutorial per ripristinare i dati di fabbrica un Samsung Galaxy A71 e più in generale qualsiasi Samsung che abbia la One UI almeno versione 5.1 allora prima cosa andare nelle impostazioni poi io farei così l'icona della lente e cerco reprise ovviamente mi fornisce tre risultati ripristina e dati di fabbrica seleziono appunto la voce ripristina elimina tutto poi se avete inserito un pin una impronta digitale ve la chiede perché altrimenti se magari andate in mano a qualcuno potrebbe farvelo come scherzo io su questo che ho preso per per provarlo in collaborazione con Play Store Italia trovate tutti i link in descrizione non mi ha ovviamente chiesto nulla assicuratevi di avere una percentuale di batteria meno ragionevole per permettere al sistema di fare questa operazione di ripristino di pulizia totale di tutto quello che è presente mi raccomando nella memoria interna del Samsung non andrà a ripristinare il contenuto della micro sd ove sia inserita come memoria opzionale quella anche per la vostra sicurezza non viene toccata operazione conclusa video veramente sotto i tre minuti però tante volte può essere importante anche sapere come fare ciao